Il mio invito è quello di andare tutti a votare domenica 5 novembre per avere un'alternativa valida al modo di fare politica attraverso la nostra lista civica Laboratorio Civico 10 proprio per confidare pienamente nella trasparenza, nell'onestà, nella novità e nel servizio col quale noi vogliamo coniugare la parola politica. Grazie a tutti.